bentornati ragazzi sul mio canale questo è un video spacchettamento in bruschè andiamo subito a vedere le clienti cosa hanno ordinato allora partiamo con il primo prodotto che è questo un bagnoschiuma da 200 ml a pesca e anice stellato questo è il formato più piccolino poi abbiamo anche il formato più grande che questo da 400 ml sempre della stessa profumazione sempre da 400 ml abbiamo questo qua amora vedete anche questo è molto bello un altro bagnoschiuma sempre della 400 e questo questo è uno dei miei preferiti poi abbiamo questo qui al monoi sempre da 400 ml e con questo possiamo anche lavare i nostri capelli quindi e shampoo doccia questo il colore è trasparente prende solo il colore celeste della della bottiglia quindi poi quando lo andiamo utilizzare diciamo è trasparente il prodotto all'interno poi abbiamo un'altra bottiglia sempre di bagnoschiuma questo qua da 400 ml ogni profumazione c'ha un colore diverso penso che lo avete notato anche voi anche questo qua vedete c'è questo che per i capelli colorati da 200 ml ragazzi questo è perfetto per chi ha diciamo i capelli tinti andiamo avanti abbiamo quest'altro prodotto riparazione per il corpo un latte nutriente intenso con burro di karité per pelli morto secche vi ricordo che in ecotubo e il formato di questo qua è da 200 ml un altro bagnoschiuma sempre da 400 ml questa volta a vaniglia qui abbiamo sempre per capelli colorati ma questa volta è lo shampoo da 300 ml poi abbiamo questo siero questo qua rassodante per il seno quindi è un lifting seno io mi sto trovando benissimo con questo prodotto è da 100 ml poi abbiamo non posso aprirlo però comunque uno stick illuminante per il viso il colore vediamo un po se riusciamo a leggere abbiamo se la telecamera esce ad inquadrare il nome ecco qua perfetto troppo non posso aprirlo ragazzi perché comunque c'è questo dietro e non mi consente di aprirlo però chi mi segue avrà sicuramente visto i video dove vado a mostrare gli illuminanti aperti ragazzi questi sono gli album di brusci mi regala sempre ovviamente la fattura e la busta ragazzi questi sono i prodotti che hanno ordinato dei miei clienti questa volta si sono concentrati come abbiamo visto ad acquistare i bagnoschiuma soprattutto questi qua da 400 ml sono veramente bellissimi ci sono tantissime profumazioni non sono queste che vi ho mostrato sicuramente chi mi segue e chi conosce i croce sa quali sono le profumazioni vi ricordo che basta pochissimo prodotto per fare subito schiuma ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con tutti i vostri amici vi ricordo che è possibile anche abbonarvi al mio canale e mi trovate su facebook su instagram eppure su tik tok ragazzi io vi lascio e ci rivediamo in un prossimo video con tante altre novità sempre i brusci